cari amiche e cari amici di equivoci lettori benvenuti alla prima puntata del nostro racconto di estate vi proponiamo a partire da oggi l'avventura di un lettore di italo calvino l'opera che andremo a leggere è contenuta negli amori difficili si tratta di una raccolta di novelle scritte nell'arco di oltre dieci anni tredici avventure così sono chiamate nelle quali calvino mette al centro quelli che lui stesso definisce silenzi amori irrisolti passioni che non si incontrano dubbi e come tema comune in sottofondo un senso di incomunicabilità che sembra la cifra di tante relazioni umane buon ascolto la strada litoranea sul capo passava alta il mare era laggiù a strapiombo e dappertutto intorno fino all'orizzonte alto e sfumato anche il sole era dappertutto come se il cielo e il mare fossero due lenti che lo ingrandivano là sotto contro i frastagli irregolari degli scogli del capo l'acqua calma batteva senza spuma a media oliva scese una rampa di ripidi gradini con la bicicletta in spalla e la lasciò in un posto all'ombra dopo aver fatto scattare la serratura antifurto continuò a scendere la scaletta tra frane di terra gialla e secca e agavi sospese nel vuoto e già cercava con lo sguardo la più comoda piega dello scoglio dove si sarebbe sdraiato aveva sotto il braccio un asciugamano arrotolato e in mezzo all'asciugamano le mutandine da bagno e un libro il capo era un luogo solitario pochi gruppi di bagnanti si favano o prendevano il sole nascosti gli uni agli altri dalle anfrattuosità del luogo fra due massi che lo riparavano alla vista a media si spogliò indossò le mutandine poi prese a saltare dalla cresta di uno scoglio all'altra attraversò così abbalzi delle sue gambe magre metà della scogliera talora volando quasi sopra il naso di semi nascoste coppie di bagnanti sdraiati su lenzuoli di spugna oltrepassato un massiccio di pietra arenosa dalla superficie porosa e accidentata cominciavano scogli lisci dai contorni smussati a media si tolse i sandali li prese in mano e continuò a correre a piedi nudi con la sicurezza di chi ha occhio per le distanze tra roccia e roccia è una pianta dei piedi che non patisce nulla giunse in un punto a strapiombo sul mare la parete era attraversata a metà altezza da una specie di gradino lì amedeo si fermò su di una sporgenza piana stese i suoi capi di vestiario piegati per bene e sopra posò a suola in su i sandali perché un colpo di vento non avesse a portar via tutto in realtà tirava appena una bava d'aria dal mare ma quello doveva essere un suo gesto di precauzione abituale un sacchettino che aveva con sé era un cuscino di gomma ci soffiò dentro finché non fu gonfio lo posò in un punto e di lì in giù in un tratto lievemente in discesa di quel bordo di roccia stese l'asciugamano ci si buttò sopra a supino e già con le mani apriva il libro al segno così rimase lungo disteso sulla roccia in quel sole che riberberava da tutte le parti a pelle asciutta aveva una bronzatura opaca irregolare come chi prende il sole senza metodo ma era frattario alle scottature posò sul cuscino di gomma il capo calzato ad un berrettino di tela bagnato ecco era anche sceso su uno scoglio basso a tuffare nell'acqua il berrettino immobile con solo gli occhi invisibili dietro gli occhiali scuri che inseguivano per le righe bianche nere il cavallo di fabrizio del dongo sotto di lui si apriva una piccola cala d'acqua verde azzurra trasparente fin quasi al fondo gli scogli a seconda dell'esposizione erano bianchi calcinati o ricoperti d'alghe una spiaggetta di ciottoli era in fondo amedeo ogni tanto levava gli occhi a quella vista circostante li posava su un luccichio della superficie e sulla corsa obliqua ad un granchio poi tornava assorto sulla pagina dove raskolnikov contava i gradini che lo separavano dalla porta della vecchia o lucien de rumbenpre prima di infilare il capo nel nodo scorsoio contemplava le torri e i tetti della consiergerie da tempo amedeo tendeva a ridurre al minimo la sua partecipazione alla vita attiva non che egli non amasse l'azione anzi dell'amore per l'azione erano nutriti tutto il suo carattere e i suoi gusti eppure da anno in anno la smania ad essere lui a fare scemava scemava tanto che veniva da chiedersi se mai egli questa smania avesse avuta davvero l'interesse all'azione sopravviveva però nel piacere di leggere la sua passione erano sempre le narrazioni di fatti le storie l'intreccio delle vicende umane romanzi dell'ottocento prima di tutto ma anche memorie e biografie e via via fino ad arrivare ai gialli e alla fantascienza che non disdegnava ma che gli davano minor soddisfazione anche perché erano libretti brevi amedeo amava i grossi tomi e metteva nell'affrontarli il piacere fisico dell'affrontare una grossa fatica soppesarli in mano fitti spessi tarchiati considerare con un po d'apprensione il numero delle pagine l'ampiezza dei capitoli poi entrarci dentro un po riuttando all'inizio senza voglia di vincere la prima fatica di tenere a mente i nomi di cogliere il filo della storia poi affidandoci sì correndo per le righe attraversando il gratticcio della pagina uniforme e di là dei caratteri di piombo ecco appariva la fiamma e il fuoco della battaglia e la palla che fischiando per il cielo s'abbatteva i piedi del principe andrei ecco il negozio gremito di stampe di statue e con il batticuore frederick moro faceva il suo ingresso dagli arnù oltre la superficie della pagina s'entrava in un mondo in cui la vita era più di là che di qua da questa parte come la superficie del mare che ci divide da quel mondo azzurro e verde crepaci a perdita d'occhio distese di fine sabbia ondulata esseri mezzo animale e mezzo pianta qui si conclude la prima puntata del nostro racconto appuntamento a domani per la seconda puntata continuate a seguirci